Un'altra big bench fra le colline dell'Oltrepopavese, la nuova panchina gigante, è sorta fra i vigneti di Mornicolosana nei pressi della strada comunale della Fonda per volontà di un comitato promotore sorto proprio con questo scopo, portare sempre più turisti ad ammirare il paesaggio da un punto di vista in cui lo sguardo nelle giornate terze si spinge oltre il santuario della passione di Torricella Verzate fino alla pianura padana e alle Alpi. La big bench di Mornico è la settima posizionata in Oltrepopavese dopo quelle di Returbido, Calvignano, Codevilla, Montalto, Casteggio e Romagnese. È un'iniziativa di cui voglio ringraziare sia il Presidente ma tutto il comitato promotore perché è una bellissima idea e da quando abbiamo inaugurato il 24 di aprile abbiamo avuto un aumento considerevole di presenze, testimonianza della bontà del progetto e ha testimonianza e ha conferma che Mornico e tutto l'Oltrepop merita oltre alla big bench di essere visitato in tutte le sue parti. L'idea è nata proprio da un gruppo di amici mornichesi, quindi è stato formato un comitato promotore, un comitato spontaneo al fine di promuovere, gestire, costruire e poi manutenere in questa iniziativa, in questa panchinona, formato da persone del paese e persone magari come me che non sono di Mornico ma che hanno scoperto Mornico, io faccio l'avvocato a Milano ma ho scoperto il paese, ho acquistato una casa e ho apprezzato il territorio. Cosa ci è piaciuto? Ci è piaciuto di questa iniziativa che peraltro è un'iniziativa internazionale perché fa parte della big bench company a cui bisogna aderire e seguire gli standard, ci è piaciuto il simbolo cioè il fatto che questa panchina così grande fosse ben radicata sul territorio ma allo stesso tempo fosse un modo per osservare il territorio. Quindi alla fine è stato vissuto come uno strumento di attrazione turistica, di valorizzazione della regione e di osservazione proprio fisica e se vogliamo quindi una scusa per venire a trovare Mornico, per conoscere Mornico, per conoscere i vini, per conoscere i prodotti, per conoscere la cultura e per poter passeggiare nel paese e quindi rivitalizzarlo. A confermare tutto quello che viene detto e promesso nel sito di questa grande associazione l'aumento di turismo è immediato, ovviamente ci sono i primi appassionati che vengono a farsi fare il timbro al passaporto, adesso inizia a scemare diciamo questo primo momento e iniziano arrivare i curiosi, quindi adesso vedremo di adoperare diverse nuove iniziative attorno a questa panchina per poter mantenere questo turismo che sta dando veramente tanto al nostro paese. Grazie a tutti.